Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro dicembre 89 Ragazzi, secondo gli spagnoli, questo è il nuovo Among Us L'Among Us 2.0, si chiama Betrial.io Lo potete scaricare su Apple, su Android O se volete dare a me, giocatelo sul PC Cerco di lasciarvi qui sotto tutti i link, comunque ci sono delle guide Quindi oggi andiamo a provare il gioco Mi è crashato un po' di volte, ma comunque sono un detective formidabile Perché ogni volta che crashavo buttavo fuori sempre un cattivone Signori, se questo gioco vi piace, mi raccomando subito un po' il pollicione in su Perché dipende tutto quanto da voi Signori, dato che non ci stiamo capendo niente Vi dico, in questo momento sono con Dom, Filo, Diffo, Matrix, Ecco Bomba Marco, Gianga, Porcuccio, Solo FGamer e Red Dead In questo che dovrebbe essere il nuovo Among Us Facciamo così, gli spagnoli stanno impazzendo per questo Among Us Ah, Porcum, io mi sono fatto il codino, sembro te su GTA Mirko, guardami, 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 guardami Ma che te sei fatto? Ma perché la nostra della partita è che con la partita E' un altro bug che non cadiamo con il possibile Pippo Farina, sei uguale, cacchio, sei identico E' un'altra scelta E' un'altra rega, è proprio Among Us Chi capisce niente Ah, posso fare così C'è Porcuccio, c'è Checobomba C'è il report Io qui non posso passare Poi ovviamente se si può scaricare su PC Ok, ovviamente Crewmate Edition Per me Ragazzi, questo qua, come vi ho detto Potrebbe essere Potrebbe essere veramente Il nuovo Among Us Ok, qualcuno Quindi 1, 2, 3 Questo Ah, devo tornare Però è successo qualcosa Ah, tanto me tira una saittata De Red Dead Sicuro me fa fuori Ok, usiamo questo Vedete, queste qua Sono tutte le cose che possiamo sistemare Qua c'è fillo Ricordiamoci che però Qualcuno qua sta mentendo Non lo so Che devo fare? Ah, 8K Ah, è da buffare Mamma mia, quanto so forte Quanto so forte Vedete, sopra ci sono le tasche Calcolate che è in alfa Quindi c'è tutto ancora da fare Secondo me è abbastanza difficilotto come gioco E poi sto giocando Che succede? Regà, io non ho proprio indizi Mi dispiace Neanche io Io non lo merito Comunque, eh Non lo merito Mirko Eeeh Come si fa a votare Ah, ecco qua Per votare Basta cliccare sul personaggio Eh no, io schifo Io non ho niente Poi alla fine è morto Quello meno importante Guardami, poverino Andicato che io Guarda con quartitino Guarda con quartitino piccolo Ci sta Secondo me ci sta È piacevole Perché Among Us Regà hanno sbagliato a non aggiornarlo Non è che Quindi Ma sto a disinnescare una bomba nucleare Qua dentro Questa è una long task Però uno è morto Matrix Ricordiamoci sempre che Poi da quello che ho capito Uno fa lo sceriff Uno non fa lo sceriff Ma io Regà Ve giuro Non ho ancora capito Un po' di cosene Quindi? Ah non so Regà Ho fatto totalmente A caso E io penso Di aver fatto tutto Ok Qui è sempre Quando qualcuno Quindi? Non ho capito Che cosa dovrei fare qui? Non ho capito Vi giuro Che cosa fai Non lo so Ma io il vicino Non ho capito Ai 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 Magari Ho trovato che In basso a sinistra Certo la discussione è un po' piccola Per discutere Eh si deve modificare In basso a sinistra Che co-bomba C'eravamo io Mirko In basso a sinistra Tutto Io ho un sentimento Che però Mi potrei sbagliare Ovvero? Eh per me è sol Ah Perché io poco Io poco tempo fa Ti ho visto andare in basso a sinistra Però Eh lo so Però potrebbe essere Un report kill Io non lo so Cioè Tanto possiamo schippare Perché mancano Pochissime tasche ragazzi Eh Oddio Quando Gianga fa così Ma che vuoi? Non so io Quando Gianga fa così Regà Non incominciare Non incominciare Non incominciare Che poi adesso Le telecamere Si possono ancora usare Secondo me Però Eh Ma mo qualcuno Ma la tira la settata Eh The Red Dead sta qua Soul of Gamer Fix Acceleratore dei particelle Perché se no Non so Succede una roba brutta Quindi sto correndo Tu Ragazzi Filo Eh Io ho visto passare Matrix Giù sotto Ma in che senso Ma È il nome Però Scusa Mi sono già due volte Che tu mi riposti Mi riposti Sopesso da sotto Ok Non so È il proprio centrali In basso a tutto Ma Chi è che manca la tasca Scusatemi A me A me Manca l'ultima tasca A me Che mi hanno disorientato Stavano No Scriviamo Comunque Aspetta Sono Allora Lorenzo Pippo E ciccio Non sono Perché Li ho visti Tutti a tre A round Di prima Ciccio E Lorenzo E questo round Pippo Matrix Ci è passato davanti E Difo Stava con noi Quindi io sono O Matrix O Soul Eh Sono andato sotto Stava nella console C'è in basso a tutto Ci stavano pure altre due persone E poi Ho visto entrare La fine Matrix Alla fine Guarda io Stivo solo Perché Manca una task Perché Secondo me È Soul Ma perché Più che altro È perché Te conosco C'è qualcuno Che sta a fare Lo strozzo Comunque Aaaaa Mi potrebbe uccidere C'è qualcuno Che sta a girare In basso a sinistra Che sta ammazzando Tutti quanti Per me è Soul Per me è Soul Mamma E quindi Chi era Scusate Era Soul Un solo Un solo uccisore Per tutti quanti Quindi era Soul Allora Aspetta Aspetta Allora fermi Ok era Soul Ci avevo indovinato Facciamo Cambiamo le impostazioni Sto giro Proviamo Sulla seconda partita Con i nuovi setting Quelli professionali Ragazzi Quelli competitivi Eh dai Eh oh madonna È proprio Ma un cazzo Ok Mo abbiamo sistemato Un paio di cosine E vediamo Vediamo un attimo Qui è chiuso Possiamo entrare qua Eh perché Mo dovemo Cominciare A puracca Un attimo Come funziona Eh Io sto giocando Comunque da tablet Ci sta Go to server For Piripi 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 Ah hai capito Interessante Orca Puttana Ma è morto uno Regà è morto uno L'ho visto eh Ma se è difficilissimo Eh lo so Eh lo so Ma non sono io Un certo Che è successo Zio Tom So che tu pensi Che io sia io Ma non sono io L'avevo visto Ma non l'ho voluto riportare Perché volevo prima Risolvere le tasche Non sono io Interessante Interessante Diciamo Una scusa Un po' Porcuccio scommetti Che io te caccio Porcuccio Vuoi scommettere Che sei te Non sono io Io sono da tutta parte Regà per me è porcuccio Io vado porcuccio Vuoi scommette Aspettate Aspettate Io ho visto Ho visto Perché Mirko Non è riportato subito Il corpo L'ho appena detto L'ho appena detto Non sentivo Eh non sentivo Eh non ho voluto riportare Perché prima Stavo facendo la quest Per riattivare le telecamere E poi avrei riportato Anche perché Se Anche perché Doom Se sei arrivato tu Probabilmente Non sei l'impostore Hai capito Quello che ti vuoi dire Il solito Già vediamo un gas Regà A me Mi pusso Un botto Porcuccio Però non voglio Perderla Che te lo dio Non è saluto C'è Il solito discorso Ragazzi Vedi Mirko Se non sono io e Mirko Guarda quante dita E ciao Qualcun No 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 È rimasto vivo Per me Porcuccio Quindi Ah piano bisognava Ma dimmete Stiamo bene Quindi secondo me È porcuccio Io spero che ci sia qualcuno Là perché E niente Lo sapete che mi sa Che uno è Pippo Perché No 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 Che c***o Ci siamo insieme Appunto Io me ne sono andato a destra E tu sei andato a sinistra È porcuccio Prima Io sono andato a sinistra Io porcuccio Non ho visto Ho trovato là Pippo farina È diventato un 2.0 Quindi Si è specializzato Io non ho prove Regà L'unico che c'è Poi di prove È morto porcuccio Quindi Due pippo farina Eh Chi hai Sì stronzoni Chi sono E già Incomincia a essere Un attimo Complicatuccia La situazione Io come sempre Sarò sempre Crewmate Quindi questo qua Questo qua Due Fatto? Non so come l'ho fatto L'importante è che l'ho fatto Ah ok Ok Madonna mia Questa è una longa task È una longissima task Ah se facciamo Di farciare Ma Mamma mia Questa è lunghissima Chi è morto Ah io stavo con Matrix Io Io stavo con Matrix A posto Che Io stavo con Matrix Ma no Io stavo con Matrix E lo poti pure Mirko Io Perché lo posso dire Ah perché io sono uscito con te Ragazzi mi risorcia da quello che sta dicendo Che ecco Io non so Ma che stai dicendo Ma non ho mai visto Che sono passato insieme a Matrix A te Prima No Sto facendo le tasche Ma che vuoi Che io stavo con Mirko Matrix E basta Ma quando Ma quando Uno dei due O se non ti ricordi Né compa mia Che dove fanno Ah vabbè raga A me mi ha rotto il cazzo Questo voto Ah vabbè Il nano Raga io non ero con Chietco Ma non è che se spono con te Che coloro sto con te Ma che sei subito Ma dici ma perché me votate Mi ha crashato Eh lo sapevo che era lui Sto stupido idiota Ma tu non sei capace a giocare a questo gioco Ma come fai Ma come senza senso No perché non sono stato io Mi butta in mezzo No perché all'inizio No perché Ma è normale che poi ti voto Scusami eh Io volevo dire L'ultima volta dove l'ho visto Tu continua a dire sta cosa Ma non hai capito Nessuno ti ha detto niente Cioè nessuno ti ha detto Checco dove eri Appena è cascata la barra Ti hai fatto Ah raga Io l'ho vistavo con Ciccio Ma chi te sei in cula Ma salto il Cito Cioè Non c'è volta questo Cito Oh ancora che insiste Tutti avevamo capito Che era lui No Porello Eh Tranquilli Terza partita Crewmate Tranquilli Ter è dead È uscito da qui Non c'è nessun morto Quindi Ah ok Troppo forte De nuovo De nuovo Che poi questo Non ho ancora capito Come disinnescarlo Vedevo di la verità eh Difo Penso che sia Difo Penso che sia buono Difo Difo E fillo E soul Però Difo Secondo me È safe Pure The Red Dead Difo E The Red Dead Sono safe Ecco C'è So Che Abbiamo Trovato Non chiedete dove l'abbiamo trovato Stavamo io Difo E solo Perché E A destra Totalmente a destra Dove stavano pure tipo Le Le piante Però non so come si chiama Il posto Stavamo io Solo E Difo C'era l'efficienza Che ho capito Ti era uno era Difo L'altro Se è Porcuccio Dimmi Mirko Tu con chi stavi Stavamo io Sul Difo Insieme Difo Tu quanto sei stato Con Porcuccio No ci siamo incontrati Lalli Ci siamo appena Allora 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 Per me Difo È free 100% Ok Io Ho paura Per Porcuccio Prima ero a destra Ho visto Mirko Solo Poi c'era Difo Sotto Tipo Farina E Matrix Io stavo da solo Ah poi io ci sono pure Tutto il tempo L'Ostigeno A fare la task Ma Matrix 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 era Con noi Mentre stavamo facendo Abbiamo fatto L'emergenza Poi ce ne siamo andati Più o meno Non so che cos'è Ossigeno Una cosa del genere Sì 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 Sono E' arrivato qualcun altro Io sono salito sopra Ed è morto pure Matrix Rega io un paio di sospetti Ce l'ho Porcuccio E Checobumba Però adesso Non li posso notare Lo sapete perché Ma lo sapete perché Perché Checco Quando fa così È perché Lui ma non vuole parlare Bene Non sono mio Va bene Va bene Va bene Vedremo E come ti fai a passare Sette cose Scusate Ma Checobumba Abbiamo giocato a Moncastro Lo sai che io Certo le capisco Comunque Va bene Va bene Checobumba C'ha degli algoritmi Talmente tanto stupidi Che secondo me E Checobumba E Porcuccio Potrei sbagliarmi Ma questa è la longa task Madonna Arsenio Lupen Per fare sta roba Mancano Porcuccio E Checobumba Che devo fare Scusa Vi giuro ragazzi Tappto Ah Ok E va buona Eh regà No dobbiamo buttare fuori Qualcuno Eh No Lo sceriffo Ci sono più mate Quindi sono morti Tutte e due Quindi se uno sceriffo Uccide Cioè Uccidere Cioè Fatemi capire Se lo sceriffo Uccide Uccide male Muore anche lo sceriffo Sì 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 Ma chi era lo sceriffo? Chi era? Ah può uccidere una volta game Ma chi è sto pirla? Io ho trovato Eh no Però aspetta può darsi che lo sceriffo Pensava di sapere chi era il killer E l'ho ucciso Grazie Eh Morguccio Grazie Grande Grandissimo Ma io Nessuno Cioè veramente Non lo vi fa nessuno Ma con le queste che sto facendo Lo capisco Ve lo giuro Non sto scherzando E lo sceriffo E lo sceriffo Era che po' Perché c'era Che imbezile Che imbezile Lui guarda Mi sa Mi sa eh Non lo so Eh ma scusa Un impostore No aspetta Allora sentite a me Io garantisco per tifo Io non riesco a garantire a nessuno Cioè non ho visto nessuno Cioè ho incrociato Lorenzo Ma Regà Se volete Se volete sentire a me Se volete sentire a me Per me E dom E solo gamer No 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 Aspetta aspetta Mercogliaro Un'elettrisi A pulire la luce E ho visto che c'eravate tutti Tranne Porcuccio No no Io non ci sto Non è una cosa No tu sei arrivato dopo Soul Sei arrivato sotto sotto Che ti ho visto Ti sono passato pure davanti Dopo che ho fatto Vabbè Purtroppo Sce rifaruti Corlioni Quindi Eh ma Non ho idea di niente Io regà Ho votato il pelato Che la barba arancione E quello Penso sia Porcuccio Però Dom e Diffo No Diffo No Diffo no Diffo mi sembra che è safe Mi sa che sto Porcuccio E mi crasha ragazzi Quando c'è la votazione Quando c'è la votazione Ma chi era Soul era lui Io Io ero io Allora Sono troppo forte Cioè No vabbè Poi ero io Le ho fatto Una double La prossima volta Lo scarico Lo scarico da pc Perché in questo momento Ha problemi Non è Non è Da scaricare Mirko No No Vabbè Ma come vi pare Lo giocherò da pc Questa volta Vi ho fatto vedere Che in questo momento Da ipad Eccetera eccetera Ci sono problemi Perché comunque È un alfa Quindi ci sono problemi E niente ragazzi Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Pollicione in su Commentate Condividete Dipende da voi Se noi portiamo Altri video di questo genere Poi possiamo giocarlo Anche in live Come facciamo su Among Us Gli spagnoli stanno impazzendo Per questo titolo qua Ma sicuramente in Italia Non se lo schiopperà nessuno Guardate gli altri due video Ve voglio bene Ciao